Sulla base delle inchieste epidemiologiche spesso ritorna il problema della riunione familiare per ricorrenze diciamo che ordinarie, graditissime in altri tempi, ma che andrebbero riviste se non altro in questo periodo, o anche riunioni legate a delle tradizioni tipiche delle aree rurali. Faccio un esempio, la tradizionale riunione conviviale conseguente alla macellazione domestica del maiale, abbiamo trovato diversi casi, provoca proprio una serie di focolai familiari che poi casomai tendono poi successivamente anche ad allargarsi e questo è un dato in un certo senso per alcuni versi sconcertante, perché se si pensa che per esempio situazioni come la perdita di una persona cara sono fortemente condizionati per quanto riguarda la cerimonia del funerale, si evita di andare incommiato a una persona cara, viceversa insomma diventa un po' paradossale il fatto che tutti corrano quando invece c'è da festeggiare la morte del maiale. è un aspetto questo, anzi a questo proposito vorrei ricordare alle persone interessate che proprio in considerazione della pandemia, rivolgendosi al servizio veterinario c'è la possibilità di poter procedere alla macellazione domestica del maiale in un ambiente specifico, secondo quelle che sono le diverse progetti. Fa bene dottore a lanciare questo aspetto. E' un esempio, intendiamoci, non voglio portare il tutto o la persistenza dell'infezione, ma è uno degli esempi che è necessario fare, così come pure è consigliabile in questo momento di astenersi da festeggiamenti e da riunioni non necessarie.